25 anni di questo lavoro, insomma, quantomeno la qualifica di esperto ci sta tutta, no? E quindi questa idea dell'esperto risponde nasce proprio per utilizzare questa esperienza che hai fatto? Assolutamente sì, Luca. Il servizio esperto risponde, che ovviamente fa parte dei servizi che offre job ai clienti, gli aspetti, ma anche a coloro i quali ci avvicinano, soprattutto attraverso i social network e anche attraverso il sito, nasce appositamente per essere un servizio accelere, veloce, efficiente, nel dare delle indicazioni molto chiare, molto precise, su come ovviamente contestualizzare l'utilizzo degli integratori e job rispetto al raggiungimento di obiettivi di performance. Quindi tu, in poche parole, attraverso questo servizio dai un post vendita, ma anche un pre vendita, in realtà, no? Assolutamente sì, spesso e volentieri sono anche potenziali clienti o comunque persone che utilizzano i prodotti, che si avvicinano a job e quindi mi girano come affrontare magari una programmazione specifica nel crossfit. generalmente la domanda è questa, come posso migliorare la massa muscolare, come posso implementare il recupero, piuttosto che... Esatto, questo volevo dirti, quindi, in poche parole, se io ho un dubbio su una gestione della mia integrazione, posso utilizzare questo sistema? Ti ricordo che, oltre alla fanpage di Facebook, anche oltre alla fanpage che abbiamo su Instagram, è possibile contattare il servizio Asperto Risponde attraverso un numero verde dedicato, gratuito, da cellulare, da telefono fisso, ma soprattutto attraverso il sito, la maggior parte delle richieste arrivano tramite job. è molto frequentato, siamo quasi a 100.000 accessi al mese, per cui molte persone arrivano, anzi nel rompeggi del sito stesso c'è un bel banner con Servizio Asperto Risponde. Ti rovino un momentino la cosa chiedendoti in tempi di una risposta. Allora, generalmente in giornata. Ah beh, quindi anche veloce. Sì, diciamo che nel caso di domande più strutturate, il forum per emettere l'inserimento di sforzo praticato, peso, età, insomma, per iniziare a inquadrare un pochettino quello che è l'obiettivo. Si parla di una consulenza che viene fatta, diciamo, a distanza, però spesso e volentieri mi succede di ricevere richieste particolari, ad esempio da persone che hanno delle intolleranze, quindi faccio prospito, intolleranza. Questo prodotto potrebbe generarmi, certo, certo. E cosa volevo dirti? Mi succede anche a me o ai miei collaboratori di chiamare direttamente alla persona interessata per chiedere, diciamo, un approfondimento. Perfetto. Poi tramite mail io lascio i miei recapiti, gli aziendali, il telefono, quindi anche per un follow-up. E generalmente le persone che, gli atleti che si avvicinano già attraverso questo servizio, tendono a riutilizzarlo proprio nella programmazione, nei protocolli necessari che vanno a fare. Ottimo servizio. Esatto.